Benvenuti, io sono Matteo e questo è il canale di Anzitalia. Molto spesso le cose più piccole passano inosservate, ma se ci fermiamo anche solo per un attimo e prestiamo più attenzione, scopriremo che anche le cose apparentemente insignificanti possono essere molto interessanti. Questo mio canale YouTube è una raccolta di informazioni relative al mondo delle formiche e al lobby del loro allevamento. I video trattano principalmente i metodi con cui si possono mantenere le varie specie, non solo nostrane ma anche esotiche. Diari e registri degli andamenti delle diverse colonie che sto allevando, tutorial su diversi aspetti del lobby, collaborazioni con altri canali, allevatori esperti e aziende del settore, news del mondo della mirmercologia e test di prodotti. Le formiche sono insetti eosociali e, per quanto possa sembrare strano, condividono molti tratti comuni con noi umani. Il principale tra questi aspetti comuni è il comportamento sociale, in particolare il fatto che sia gli umani che le formiche trovano un modo per risolvere i problemi in gruppo. Si organizzano e agiscono sulla base di compiti specifici all'interno di una società. Il repertorio comportamentale delle formiche è paragonabile a quello di altri mammiferi e le loro società cooperative le consentono di sopravvivere e prosperare in diversi ambienti e condizioni. Allevare formiche può darci la possibilità di osservare molti di questi comportamenti, alcuni dei quali davvero difficili da osservare in natura. Con un po' di attenzione possiamo comprendere quanto la società umana moderna abbia in comune con una colonia di formiche. Le formiche, al pari di noi, hanno sviluppato comportamenti e trovato soluzioni per far fronte a problemi come la sanità, la costruzione di infrastrutture, la distribuzione di beni e servizi, problemi col traffico, lavoro di squadra, agricoltura e allevamento, guerra e schiavitù. E dopo tutto, questo ha senso, perché questi piccoli insetti contendono con noi per il primo posto come organismo di maggior successo del pianeta.